Ciao e benvenuto a Prospettive di Sabri, la mia rubrica di Floriterapia e Teta Healing. Oggi andremo a parlare di un nuovo gruppo, la preoccupazione eccessiva per il benessere altrui. Tutti i fiori che fanno parte di questo gruppo servono a riportare in equilibrio le persone che sono troppo proiettate all'esterno, verso un amore manipolatorio e un interesse possessivo fino quasi a sfociare a un controllo sugli altri. In particolar modo oggi parleremo di cicori, la cicoria selvatica. È stato il quinto fiore scoperto da Edward Bach, lo ricaviamo col metodo della solarizzazione e cicori è proprio quell'amore possessivo e manipolatorio fino ad arrivare quasi al ricatto affettivo. Cicori è riconosciuta un po' da tutti come l'amore materno, la chioccia, quella maternità bisognosa, quel vuoto interiore che a volte per paura di non essere sufficientemente brave o adatte si rischia di andare a soffocare i propri figli e così anche le persone amate intorno a noi. Cicori l'errore che viene fatto da queste persone devi sapere che è proprio quello di dire dopo tutto quello che ho fatto per te, per quello che si identifica molto con l'amore materno per i propri figli. È quel senso di esserci fin troppo in tutto e per tutto per i propri figli fino a quando effettivamente alle volte si arriva a dire anche che i figli hanno la mamita acuta, che non riescono a muovere un dito senza il permesso della madre. È importante per queste personalità comprendere che si può stare bene anche da soli, che si può esserci per gli altri in maniera costruttiva e non manipolativa e soprattutto che questa necessità, questo bisogno di possedere oltre che le persone, l'amore, le cose, le situazioni, le idee è semplicemente perché è un equilibrio distorto in questo momento nella persona che ha paura di attingere invece alla sua vulnerabilità. infatti cicori principalmente ha la necessità di evolversi verso un amore disinteressato, verso un fare per gli altri proprio per la gioia che prova nel fare per gli altri senza che ci siano secondi fini per trattenere a noi le persone senza che ci siano delle motivazioni strategiche nel comportamento e nell'aiuto che ci viene dato e offerto da queste persone. Bene adesso andiamo un po' a riequilibrare la nostra sfera emotiva che dall'esterno la portiamo all'interno in modo da essere più presenti a noi stessi, più equilibrati. Ti piacerebbe sapere come ci si sente e cosa si prova a provare la vera gioia nel prendersi cura degli altri in modo disinteressato? Senza la necessità di stare al centro dell'attenzione, senza essere possessivo nei confronti delle persone che amiamo? Posso? Che sai già come ci si sente ad essere in contatto con la parte più intima, amorevole e profonda di sé. Posso?